Benvenuti allo spettacolo degli allievi del corso di musica della banda musicale cubinese curato dal nostro maestro Giuseppe Volpe. È il momento di chiamarli, accogliamoli con un applauso. Entra per primo il batterista che ci darà al ritmo, Mattia. Adesso facciamo entrare i clarinetti, Sofia, Carla, Maria, Noemi, Giorgia, Manal, Jessica, e Davide. E ora è la volta delle trombe. Giovanni e Dario e infine i tromboni Tommaso Daniele e Tommaso Adesso cedo la parola al nostro presidente Vittorio Spano. Grazie. Grazie.